Maestro Orzini ha ricevuto un'accoglienza particolare questa sera, addirittura ho mangiato di una bottiglia di vino della Doc Cortona, non capita in tutti i teatri? No, non capita in tutti i teatri, anche perché ormai i teatri sono un po' dei luoghi anonimi dove passi e non c'è nessuno che ti accoglie come una volta che c'è un direttore o un rappresentante o qualcuno, passi, vai nei camerini, fai lo spettacolo, vai via e nessuno ti viene come una volta ad omaggiare. Questa volta invece un omaggio molto sentito e molto gradito, un vino preziosissimo, noi abbiamo il rito del dopo spettacolo che in genere, specialmente una compagnia come la nostra che non è numerosissima, ma comunque con sei persone che bevono il vino, quindi molto volentieri, questa sera lo dividerò con i miei compagni di avventure, saranno molto contenti, poi mi conserverò la bottiglia che è molto bella. Mi permetta un gioco legato al vino, si ricorda la prima volta che hai assaggiato un buon bicchiere di vino rosso, un ricordo particolarmente piacevole? Non lo so, io ho fatto tantissimi anni fa, sono il primo che ha fatto in televisione un programma che si basava sulla cucina, si chiamava Colazione allo Studio 7. Io sono un precursore direi di tutta la moda poi che è succeduta negli anni seguenti fino ad oggi con Masterchef o tutte queste trasmissioni. Io andai in Rai e dissi se mi date la fascia da mezzogiorno all'una, che allora invece c'erano delle pecorelle che viaggiavano per intervalli, non ricordatevi, insomma praticamente non era utilizzata, vi faccio trasmissione sulla cucina e si chiamava Colazione Studio 7. La feci con Luigi Veronelli, ora parlando di vino e parlando di Luigi Veronelli che in realtà era un grande cultore di vino, quindi non è che la prima volta che assaggiassi del vino ovviamente, ma certamente la consapevolezza dell'importanza del vino, delle sue sfumature, dei suoi sapori, delle sue origini e tutto quanto, così mi venne proprio dalla conoscenza con Luigi Veronelli. Un'ultima battuta, secondo lei teatro e vino in cosa si assomigliano? Che il vino invecchia bene e quando invecchia bene è più buono e quando il teatro invecchia bene è più gustoso e la gente se lo ricorda di più. Prosegue questo binomio tra cultura e vino qui al Teatro Signorelli grazie al consorzio che ha deciso di omaggiare con una magnum consortile tutti gli attori che passano da questo teatro. Senza ombra di dubbio vino e arte si sposano perfettamente, l'arte serve a tramandare ai posteri una cultura, una civiltà, un modo di vivere e di pensare. Il vino è l'espressione del territorio, è l'espressione del terroir, della passione che ogni viticoltore mette sul proprio prodotto, sul proprio lavoro. È indice di professionalità e di sacrifici, tanti sacrifici. Cortona merita senz'altro grandi compagnie teatrali come quelle che abbiamo visto passare e che vedremo passare qui a Cortona. Il vino sta riscuotendo un ottimo successo, le esportazioni crescono, i punteggi sulle guide continuano a crescere, quindi penso che si possa andare di pari livello e di pari passi. Il lavoro di promozione continua, continuerà anche nelle prossime settimane, sarete anche a Firenze per un'anteprima importante? Non si può amare ciò che non si conosce. Per fare conoscere bisogna fare promozione. Non ci fermeremo né oggi né domani né mai. La promozione rimane uno dei punti cardini, assieme allo studio, per continuare a fare passi avanti nella qualità dei nostri prodotti e alla collaborazione tra tutti i vignaioli cortonesi e il territorio.